Oggi cogliamo l'occasione per esaltare e rilanciare l'importante storia della bonifica qui in Calabria. Lo facciamo dal Museo archeologico di Sibari, da un territorio a vocazione agricola. E proprio qui la bonifica, i consorsi di bonifica hanno svolto un importante lavoro a sostegno e di servizio all'agricoltura ma anche al territorio e per le comunità. Ricordiamo nel 2013 le sondazioni del Crati e in quell'occasione i consorsi di bonifica hanno svolto un importante lavoro. Quindi oggi assieme agli attori del settore della bonifica, al mondo dell'università e della cultura vogliamo rilanciare l'importanza del valore della multifunzionalità del settore della bonifica nell'era della digitalizzazione, nell'era dell'agricoltura sostenibile e nell'era della transizione ecologica. C'è tanto da fare, c'è da mettere al centro politiche per sostenere l'importante lavoro dei lavoratori della bonifica e lavoratori forestali che sono le vere sentinelle del territorio e sostenere un concetto di fare rete. Fare sistema per affrontare criticità, opportunità, nuovi investimenti e una nuova programmazione, pianificazione, un vero restyling per la bonifica calabrese per affrontare la crisi idrica, la crisi energetica, ambientale e occupazionale in una regione a forte vocazione agricola, in una regione con grosse difficoltà e tante eccellenze dell'agroalimentare. Oggi lanceremo le nostre proposte, avviare un piano di ammodernamento e modernizzazione delle infrastrutture, rinnovare nuove opportunità per i lavoratori tramite un ricambio generazionale, avviare una nuova riforma per il settore della bonifica concentrando alcuni concetti come quello dei bacini idrografici, il capitale umano, ricambio generazionale, superare criticità attuali nei vari consorsi di bonifica, ulteriori servizi per il settore dell'agricoltura e ulteriori attività di manutenzione, presidio e cura del territorio. Sarà necessario aggiornare il PAI regionale fermo da oltre 20 anni e avviare anche una programmazione, un piano pluriennale per il recupero di quelle risorse che i consorsi di bonifica attendono da tempo dalla regione Calabria. C'è un grande lavoro da fare, ripartire insieme per il lavoro, il territorio, le persone e per sostenere e valorizzare quelle che sono le risorse ambientali e la Calabria ne è ricca.